Qui a Oristano abbiamo parlato di giornalismo del futuro, in particolare riferito a dati e hacker, che era il titolo della conferenza, vedere come noi giornalisti possiamo collaborare con gli informatici, gli ingegneri, tutta una serie di competenze tecniche per essere più preparati a dare informazioni, notizie e raccontare la realtà complessa al pubblico in maniera sempre più oggettiva, ci si prova quantomeno. I ragazzi sono stati molto bravi, hanno interagito, hanno vinto magari anche la loro timidezza iniziale, è stato molto bello parlare davanti a questi 145-150 ragazzi, perché penso che questi incontri siano molto utili anche per noi, per poterci confrontare con i giovani, con i ragazzi che vanno a scuola, è molto importante farlo.